We don't talk anymore Sto registrando questa parte dopo che ho registrato tutto il vlog Però prima di iniziare ci tenevo a ringraziare o a Sport e Overtime Festival Per la realizzazione di questo corso per cronisti e telecronisti sportivi A Macerat, nonostante sia in una posizione improponibile nelle marche Infatti l'unica cosa negativa sono stati i viaggi veramente lunghi Che ho fatto anche 4 ore in Pullman da Roma a Macerata per farvi un esempio Però a parte quello grandissima esperienza Ringrazio Federico Militello il direttore di O Sport Che nonostante io abbia 15 anni Di fare un corso veramente fatto bene, organizzato bene Nonostante io abbia 15 anni E nonostante ciò ho partecipato a un corso davvero importante Non ci sono veramente parole per descrivere queste esperienze che ho fatto Solamente le emozioni che ho vissuto possono parlare E ringrazio tutti i docenti che ho avuto Ce li ho scritti qua ovviamente perché Ragazzi sono veramente tantissimi Ringrazio Roberto Montefusco, Cristina Chiuso, Stefano Vegliani, Vittorio Scarpelli, Marco Ardemanni, Marco Franzelli, Giorgia Cardinaletti, Elena Casanova, Gianmario Bonzi e i due più conosciuti Ovvero Federico Buffa e Pierluigi Pardo Sono veramente contento perché ho avuto come docenti Veramente persone che lavorano da anni Sono da anni nel giro nel mondo del giornalismo E dunque sentire le loro esperienze Sentire i loro consigli sono veramente importanti Veramente cose molto molto importanti perché sentire il parere di quelli più esperti di te Vuol dire tanto, vuol dire che impari tanto Poche persone credo che alla mia età si stanno già muovendo nel mondo del giornalismo Sono orgoglioso di me stesso Lo dico, sono orgoglioso di me stesso perché sto facendo qualcosa di grande Ovviamente non devo fermarmi qua Questo è tutto E niente Passo la parola al me del passato E godetevi il vlog Scusate per questa introduzione lunga Ma ci danno a fare i dovuti ringraziamenti Buona visione Ragazzi siamo arrivati a Roma Sono le 17.26 Andiamo a Roma Tevortina E poi destinazione macerata Taglie Ragazzi sono alle 6.30 Siamo arrivati a Roma Tevortina Ci aspettano 4 ore di viaggio in Pullman Per andare a macerata Tanto che stiamo mangiando ovviamente prima di partire E quindi speriamo bene Ragazzi sono mezzanotte e 20 Appena arrivati in hotel Io sto letteralmente morendo Sono stanchissimo Dopo tutto il viaggio che ho fatto Tra aereo, Pullman, Treno eccetera eccetera Per arrivare a macerata E quindi niente Adesso dormo ovviamente E ci vediamo domani Buongiorno a tutti Pausa pranzo Però va tutto bene Prime lezioni E ci vediamo direttamente di sera Con la pausa cena Direttamente in hotel Eccoci qua Al termine di una giornata Mamma mia Molto faticosa Perché tutto il giorno lì A stare Durante le lezioni eccetera eccetera Alla fine è ovvio che ti stanchi Però la giornata non è ancora finita Perché Devo Devo andare al cinema E poi dopo Essere andato al cinema Devo studiare Perché domani Devo fare La telecronaca Di Italia Cioè di Di Finlandia Italia Sarebbe una replica Però comunque Ovviamente devo far finta Che la partita Non l'ho vista Altrimenti Non ha senso Cioè E quindi mi devo studiare Finlandia Italia Statistiche Prima di quella Determinata partita Eccetera eccetera Quindi niente Adesso vado al cinema E ci vediamo dopo Sono distrutto Appena finito Appena rientrato Dando che Dalla regia Fanno la risata Di Joker Non vi faccio Ovviamente Spoiler Eccetera eccetera Vi dico solamente Di andare a guardarlo Perché È bello Però vi cagate Allo stesso tempo Quindi È una sensazione Fantastica E in tutto ciò Sono Quasi le mezzanotte Devo studiare Italia Finlandia Per la telecronaca E Voglio morire Voglio morire Che bello Ridurre sempre All'ultimo Dormo E ci vediamo domani Buonanotte a tutti Finlandia Italia Sesta giornata Delle qualificazioni Agli europei del 2020 La classifica Sorride Di colore azzurro L'Italia A 15 punti La Finlandia Insegue A 12 punti A 12 punti Anche Senti Intanto buongiorno Perché mi ha registrato Nulla di mattina Appena finito di fare La telecronaca Anzi assurda Anzi assurda Però Tutto è passato Quindi come va va Non vi dico se è andata bene o male Perché non so nessuno per giudicare me stesso Comunque Nel locale In cui sono in questo momento A mangiare A fare una piccola pausetta C'è Federico Buffa Che tra l'altro è il docente Di pomeriggio Quello che dovrebbe farmi la lezione di pomeriggio Insieme a Pierluigi Pardo Quindi ragazzi qualità Vi aspetto dopo Sono nel treno Che mi porterà la macerata Fino a Roma E quindi Niente è stata una bellissima esperienza Appena conclusa poi vi faccio vedere qua Tramite montaggio Vi faccio vedere le foto Che ho fatto con Pierluigi Pardo e Federico Buffa Che erano i miei docenti Di pomeriggio nelle mie ultime lezioni Di questo corso Che mi ha dato tanto Ho imparato tanto da questo corso Comunque a 15 anni Diciamo che Non è impossibile trovare corsi Che ti diano Quello che mi ha dato questo corso Quindi ringrazio veramente tutti Ma i ringraziamenti tanto Penso che li metterò dopo E quindi niente Il vlog non è ancora finito Non è ancora finito Perché c'è anche la giornata di domani In cui comunque Visiteremo assieme Roma Quindi niente Adesso sono in treno E ci vediamo dopo Ragazzi siamo Arrivati in hotel a Roma Siamo arrivati a Roma Termini Alla stazione di Roma Termini Verso mezzanotte Abbiamo cenato Perché eravamo a stomaco vuoto Per più di 4 ore E abbiamo cenato Oltre le mezzanotte E sono stanco morto ragazzi Sono stanco morto Domani tutto il giorno A visitare Roma E quindi niente E questo è quanto Sono talmente stanco Che non riesco nemmeno a formulare Frasi di senso compiuto Quindi ci vediamo direttamente domani Ragazzi ci vediamo direttamente domani Comunque Sapevo che le strade di Roma Avessero le buche Ma non immaginavo Non ero pronto A vedere anche I marciapiedi Di Roma Con le buche Qualità Qualità Di che Alla per l'icipale Stupendo Stupendo Ragazzi Piazza di Spagna Vedete Sono appena rientrato A casa mia Vi racconto Ciò che è successo Un breve riassunto Su ciò che è successo Dopo Siamo andati a Piazza di Spagna Niente Ho preso il treno Poi ho preso l'aereo E poi 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 Sono tornato in Sardegna Ed eccomi qua Comunque Ho incontrato un calciatore in aereo Nel mio stesso volo Dopo aver incontrato Kossu All'andata In aereo Al ritorno ho incontrato Un calciatore Che gioca Gioca Al Cagliari Non è ex calciatore del Cagliari Sto parlando di Licco Giannis E vi faccio vedere La foto che ho fatto con lui Sono molto contento Di aver incontrato Licco Giannis Sì Non è Uno dei migliori giocatori Uno dei calciatori più conosciuti Del Cagliari Però è comunque Un calciatore del Cagliari E' veramente alto Ragazzi E' proprio un gigante E sono rimasto Molto Sorpreso Dalla sua altezza Mamma mia Mi ha fatto sentire basso Non che io sia alto Ok Però 1,65 Quindi Ci sta Ecco Quindi Quindi niente ragazzi Sono molto contento Di questa esperienza Fatta E Il video finisce qua Ciao ragazzi